Ehi amichetta, dove sei? Ciao, eccoti qui. Il mio nome è Luz, ho nove anni. E mi nascondo in un posto molto particolare. No, non sto parlando di Netflix. Ma di una scuola in cui i bambini vivono. Ne conosci una? Sai come sono finita qui? Era un giorno come tanti nella mia comunità indigena finché non ho scoperto alcune cose del mio passato. Ho sentito che il mio nonno malvagio mi stava cercando. E mi lo avevano nascosto per tutto il tempo. Così sono scappata. Correre in una foresta di notte non è affatto facile. Per fortuna, la mia piccola amica Luz, la mia amica, Luz, mi ha mostrato la strada. Sa sempre come tenermi fuori dai guai. Luce accese! Con chi stai parlando? Ah, ti presento Joka, il mio nuovo migliore amico. È un po' svitato, ma mi sta aiutando a restare nascosta qui. Saluta. Ciao, allora studierai con noi. Ti mostro la scuola. Questa scuola è diversa dalla mia, ma sono sicura che la adorerai. Ti adoreranno tutti in classe. Adri, Nico, Savio, Miguel è divertentissimo. Lì ha molto talento. Chi secondo me potrebbe causare problemi è Sabina. Io ti tengo d'occhio. Prefara, ti farà di tutto per darti sui nervi. Gioca! Ehi, amico! Con chi stavi parlando? Ciao! Come sei finito qui? Aspetta un secondo, chiamo la preside Isabella. Però voi due non vi muovete, ok? Torno subito. Sono finita qui a causa sua. Lui è il maestro Marcos, il nostro tutor. Prometto tante emozioni, mistero, un piccolo tocco di magia e naturalmente divertimento per tutta la famiglia. Io sono pronta per questa avventura. Aspetta la mia piccola amica! Grazie a tutti!